la testa è molto dura perché è ancora a terra è Browning che è rimasto invece infortunato in questo contatto la testa ha resistito ma non lo sterno di Browning il difensore della squadra di Oakland in questo momento gli albiti naturalmente interrompono il tempo di gioco il cronometro è fermo ce ne passano ancora delle pubblicità guardate queste sono anche degli squarci di vita americana questa è la reclame della birra sarà la reclame di un supermercato supponiamo no è proprio della birra questo è per te il mondo di business machines è confuso di tangle di equipaggi, capacità e promisi but out of it emerges Exxon offices il prossimo episodio è walkie talk Oh, G.R. Funk and the Love Machine Lo ricordo per voi ragazzi Surrey Ciao Sirita Ciao, Juana G.R. Funk Hello, love you G.R. Funk and the Love Machine è un gruppo che viene degli Stati Uniti e che sono nei primi posti nelle classifiche americane